Come va? Bentornati sul mio canale. Come sempre prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Molto bene, lo dico per i nuovi iscritti, questo è uno dei video che esce tre volte la settimana, lunedì, mercoledì e venerdì e ovviamente sono un po' più lunghi perché ci dobbiamo capire meglio. Quindi vi spiego le cose come stanno. Quindi mettetevi comodi e ascoltate il video fino alla fine. Poi come sempre a fine video vi dico delle cosine, insomma parliamo un po' delle nostre cose. Quindi prima vi dico le informazioni e poi vi ne do altre dopo. Quindi diciamo sono due versioni di aggiornamenti, di informazioni. Quindi partiamo subito con la prima informazione di oggi. Vediamo brevemente il nuovo RBC da 350 euro perché arriverà il supporto, formazione e lavoro SFL. Io dico che è giusto iniziare a parlarne, almeno così ci prepariamo prima, sappiamo come organizzarci, partiamo già pronti per quando arriverà. Perché poi lo so già che poi dal primo di settembre succederà un grande paciocco, tutti inizieranno a parlarne, non si capirà più niente. E invece io sono dell'idea che prima iniziamo ad abituarci a questa nuova cosa e prima va molto meglio. Insomma ci siamo capiti. Quindi già lo sappiamo, a partire dal primo di settembre tutte le persone che hanno un'età compresa tra 18 e 59 anni, con un ISEE inferiore a 6-6.000 euro, che sono considerati occupabili, potranno ricevere la nuova misura SFL da 350 euro per 12 mesi e serviranno per partecipare a dei progetti formativi o a e a o a progetti utili alla collettività. E così cosa è successo? Che l'Inps il 18 di agosto ha iniziato a pubblicare quello che loro chiamano il dossier, proprio così, dossier decreto lavoro cosa cambia. Quindi vediamo un attimino cosa si dovrà fare per poter accedere alla nuova misura. Attenzione, apro una piccola parentesi. Premetto che al momento è così, salvo che poi non ci siano cambiamenti dell'ultimo minuto, aggiornamenti da parte dell'Inps, eccetera, eccetera. Chiuso parentesi. Prima di tutto bisogna inviare la domanda online, a partire dal primo di settembre. Anche qui, apro un'altra parentesi. A oggi, non so quando vedrete questo video, quindi io lo sto registrando il 28, uscirà il 30, se non erro questo video. Quindi al momento non si può ancora prenotare. A oggi. Capace che poi, dal primo di settembre, magicamente apparirà la piattaforma, saranno tutti là dentro. Quella piattaforma si intaserà, quindi rimarrà bloccata per non si sa quanto tempo. Quindi preparatevi già a problemi su problemi. Ecco, io ve lo dico così siamo pronti e preparati. Poi, se non volete inviare la domanda online, che io eviterei di fare casini, andrei direttamente dal CAF, patronato, consulente fiscale, eccetera, eccetera. Almeno così loro hanno la vostra situazione, sanno compilare le domande, sono pronti, preparati, sono lì proprio per aiutarvi nel compilare le cose, e quindi io sinceramente andrei da un CAF. Poi, secondo passaggio, bisogna registrarsi al sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa. Quello che si chiama SISL. E anche questo, al momento, mi risulta che non sia attivo. Anche qua, come ho detto prima, quando sarà attivo, sicuramente sarà talmente intasato che ci saranno blocchi su blocchi. Quindi, anche qua, preparatevi a questo eventuale problema. Poi, terzo, bisogna sottoscrivere il patto di attivazione digitale e indicare almeno tre agenzie per il lavoro. Infine, dopo la sottoscrizione del patto, si potrà usufruire dei servizi di orientamento, dei corsi di formazione specifica, adesione a progetti utili alla collettività, oppure ad altre iniziative per l'attivazione lavorativa. Molto utile, ricordatevi che ogni 90 giorni bisognerà riconfermare il tutto ai servizi competenti, anche semplicemente telematicamente. Mi raccomando, bisogna rinnovare sempre sta cosa, altrimenti poi si rischia di nuovo di essere bloccati. Poi bisogna rifare cose, pratiche, domande, inviare, telefonate, scocciature e quant'altro. Quindi, voi fate una bella cosa, a partire da quando vi scrivete, segnatevi sul calendario, come abbiamo tutto il calendario in cucina, ogni 90 giorni, che sono tre mesi, ogni tre mesi, prima della scadenza, rinnovare la storia. Così evitiamo anche quello, casini ulteriori. E' un'altra cosa molto importante, l'importo, come viene pagato, come vengono pagati questi soldi. Dovete sapere che questi soldi vengono pagati direttamente dall'Inse, con un bonifico nel conto corrente intestato al beneficiario della prestazione. Allora, anche qua, io ve lo dico, poi dovete chiedere bene, perché questa è un'idea che mi muta così, ma non sono sicuro che funzioni, però dovete chiedere bene. Se non avete un conto in banca o in posta, provate a chiedere anche al CAF, quando andate a far domanda, se è possibile utilizzare anche delle carte ricaricabili. So che per esempio la posta, le banche, insomma, tutti hanno delle carte ricaricabili con l'Iban. C'è la carta ricaricabile con l'Iban e funziona sia come carta di credito ricaricabile che come IBAN, quindi si possono ricevere bonifichi, bonifici, si possono fare bonifici e quant'altro. Quindi, eventualmente, quelle costano molto meno che un conto in banca o in posta, chiedete eventualmente se quelle lì possono andare bene. Per adesso nessuno mi ha mai detto niente, quindi suppongo, suppongo di sì, suppongo, non ne sono sicuro. Però, eventualmente, facciamo una bella cosa, chi ha già usato queste carte ricaricabili per ricevere dei sussidi da parte dell'Inps, da parte dello Stato e quant'altro, mi faccia sapere qui sotto nei commenti se è tutto andato a posto oppure no. Così, eventualmente, come sempre, chi guarda questo video, guardando e leggendo i commenti, si sa regolare e quindi sa come muoversi. Diciamo che è una mano che date voi anche agli altri che arrivano dopo. Ecco, quindi è tutto un sistema per aiutarsi a vicenda. Cambiamo argomento e parliamo di un'altra questione. In questa parte del video vediamo un po' come fare per recuperare un po' di soldi dallo Stato. Quindi ogni tanto una buona notizia. Dovete sapere che dal 20 di aprile del 2023 e attiva la piattaforma web per richiedere il bonus Vista. Non qui, ma questo, il bonus Vista. E contributo per l'acquisto di occhiali da vista e di lenti a contatto correttive. Per richiedere il bonus dovete collegarvi al sito internet che si chiama www.bonusvista.it A partire quindi dal 5 di maggio è possibile richiedere il voucher o bonus del valore di 50 euro. Il nuovo contributo è destinato a tutti i cittadini che hanno un ISEE inferiore a 10.000 euro. Il bonus viene rimborsato a tutti quanti hanno i requisiti in questo modo. Voucher o buono da 50 euro da spendere entro 30 giorni dalla richiesta sul sito internet statale presso gli esercizi commerciali registrati e la scadenza che dovete segnarvi sul vostro calendario in cucina come vi ho detto prima tutti abbiamo un calendario in cucina è quella del 31 dicembre 2023. Per la richiesta del rimborso bisognerà ovviamente allegare il giustificativo di spesa quindi diciamo che la fattura con il nome del negozio i vostri dati codice fiscale indirizzo e bla 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 che non sto a raccontarvi tutta la storia ovviamente il giustificativo di spesa deve contenere questi dati poi bisogna indicare la partita IVA del rivenditore poi il codice IVA del conto corrente dove si vuole ricevere il rimborso la data e l'importo della spesa sostenuta quindi avete pagato IVA inclusa quindi ricapitoliamo per richiedere il rimborso bisogna allegare la fattura scontrino fattura partita IVA del rivenditore codice IVA del conto corrente che si vuole ricevere la data e l'importo della spesa cambiamo argomento e parliamo di un'altra questione oggi rispondiamo un paio di domande che ho ricevuto in questi giorni nei video in merito a assegno di inclusione adi e supporto di formazione SFL e reddito di cittadinanza RDC partiamo con la prima domanda ovviamente erano domande tutte molto simili io l'ho riacchiuse in una sola e ne ho tirato ho tirato fuori una domanda unica quindi partiamo dalla prima domanda i nuclei composti esclusivamente da componenti esclusi o esonerati si considerano presi in carico quindi i nuclei composti esclusivamente da componenti esclusi o esonerati si considerano presi in carico allora vediamo un pochino che cosa ci dice il ministero a oggi ad oggi non si considerano presi in carico a meno che non sia stata per loro comunque finalizzata l'analisi preliminare avendo ritenuto opportuno un percorso di presa in carico da parte dei servizi sociali se in questi nuclei sono presenti minori persone con disabilità o persone di età pari pari o superiore a 60 anni potranno comunque continuare a beneficiare del reddito di cittadinanza fino a dicembre 2023 e richiedere nel 2024 la misura dell'assegno di inclusione seconda domanda seconda domanda come trattare su GEPI le pratiche dei nuclei beneficiari RDC esclusi dagli obblighi non attivabili al lavoro anche qui vediamo che cosa ci dice il ministero riguarda i nuclei da prendere in carico non attivabili al lavoro ai fini dell'invio all'inizio di ogni mese a IMS della comunicazione dei flussi informativi a cura del MLPS i nuclei esclusi dagli obblighi sono considerati presi in carico solo se su GEPI risulta finalizzata l'analisi preliminare con l'indicazione di un esito di tipo B C o D in questo caso su GEPI si possono verificare due situazioni partiamo dalla prima casi chiusi per esclusione dopo la finalizzazione dell'analisi preliminare con esiti B C o D per i quali non è necessario fare niente risultando i nuclei presi in carico per aver già finalizzato l'analisi preliminare secondo casi chiusi per esclusione senza aver prima finalizzato l'analisi preliminari per i quali è necessario riaprire il caso chiuso quindi per esclusione su GEPI e finalizzare l'analisi preliminare con uno dei suddetti esiti B C o D questi ultimi nuclei si ribadisce quindi attenzione si ribadisce potranno considerarsi presi in carico solo dopo aver finalizzato l'analisi preliminare con esito B C oppure D so che questa seconda domanda era abbastanza abbastanza complicata capisco benissimo perché effettivamente anche questa era un po' un grande pacioccone però come sempre se avete domande o dubbi fatemelo sapere qui sotto nei commenti e appena riesco e posso vi rispondo sapete che io ricevo più di un centinaio di domande al giorno e quando riesco cerco di rispondere a tutti quanti quando non riesco purtroppo non riesco quindi se c'è poi tra l'altro c'è qualcuno che sa rispondere alle domande che mi fanno sotto i video benvenga se mi aiuta a dare una risposta agli altri quindi chi tra di voi leggendo i commenti conosce la risposta io invito gentilmente a rispondere alle domande degli altri così ci evitiamo tanti problemi e insomma una mano lava l'altra come si suol dire poi come vi ho detto all'inizio vediamo un attimino il discorso internos come sempre vi ricordo che ho attivato una chat su telegram riservata solo a voi come dice il nostro governo dedicata a te che sei abbonato al mio canale di youtube la trovi all'interno dell'applicazione telegram vai sul motore di ricerca lì entri nell'applicazione clicca sulla lente di ingrandimento scrivi luigi youtube questo è il nome della chat la chat è aperta a tutti entrate dentro rispondete alla domanda confermate e poi potete fare domande avere risposte anche da altri utenti perché anche lì dentro c'è tantissime domande di tantissime persone che chiedono tantissime cose e ovviamente anche lì dentro c'è gente che ci sono altre persone altri utenti che rispondono alle vostre domande mi raccomando sono l'unica cosa se è una chat pubblica limitiamoci nei commenti ci siamo capiti perché poi non mi fate fare come su youtube che poi scrivete parole che non si possono dire che poi devo andare nei commenti bannati sbloccarvi i commenti leggerli l'uno per l'uno farmi fare doppio del lavoro di quello che già c'è da fare e quindi cercate di non usare parole ecco e per parole ci siamo capiti benissimo l'avevo già detto anche in un altro video spero che poi alla volta questo messaggio arrivi a tutti quanti più che altro ve lo dico perché poi il 90% delle volte finiscono nei commenti bannati ed è un casino un casino perché poi dopo o li devo cancellare o devo valutare bene se sì o se no se riguarda qualcosa che riguarda me se è qualcosa che riguarda qualcun altro un gran casino quindi voi commentate nei cercate di esprimere il vostro pensiero un po' meno un po' in un modo meno colorito ecco bene con questo è tutto io vi ringrazio per avermi guardato ricordatevi di iscrivervi qui sotto al mio canale di youtube di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità e come sempre noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento sempre qui sul mio canale di youtube quello originale che vi fa i conti in tasca a presto ciao